Cambio della guardia, il caso di dirlo, al canile comunale Linoce Mattei a Sulmona. Questa mattina la polizia locale, intervenuta sul posto per constatare lo staro dei luoghi, nonché per procedere con l'inventario, il presidente dell'Associazione Code Felici, Gabriella Tunno, ha ricevuto le chiavi della struttura dopo la pubblicazione della determina dirigenziale da parte del competente settore di Palazzo San Francesco. È il giorno della rivincita, ma è il giorno di una grande gioia per me, perché ritorno dai miei cani. Dopo tre anni di assenza, non voluta da me, sono molto felice. A me è quello che mi interessa adesso, far adottare i cani e occuparmi degli altri della struttura del canile, pulirla, curarla, tutto quanto. La Tunno dovrà gestire il canile fino al 31 maggio, per quattro mesi, con un costo di 7.500 euro al mese. Nel frattempo la Lida di Sulmona, che lascia la struttura, ha dato mandato a un legale di impugnare la determina di affidamento, poiché, secondo l'Associazione, il principio di rotazione sarebbe comunque compromesso. Ci stiamo già muovendo in tal senso, afferma Laria Matticoli, presidente di Lida Sulmona. Che canile lasciate? Lasciamo praticamente un canile che in questo momento ha 178 cani, regolarmente registrati e soprattutto in buona salute. Questo voglio socializzare. Tutti quanti curati e tutti quanti, la maggior parte quantomeno, che fino a ieri è uscito in passeggiata, fino a ieri ha visto volontari, fino a ieri ha visto personale qualificato, quali eduatori e strutture finofili, quindi persone che comunque sono del campo, del settore. Lasciamo un canile che era aperto, che si è occupato praticamente della comunità. Abbiamo ospitato anche diversi servizi socialmente utili da parte del rintegro dei detenuti, che poi dovevano comunque scontare dei mesi. Ci siamo occupati quindi pure di dare importanza a persone che importanza purtroppo non ne avevano più. Anche sul piano sociale, che era inserimento. Non è stato mai un canile chiuso, è sempre stato aperto, tutti i pomeriggi, tutti i giorni, sempre. Abbiamo fatto diverse iniziative, diverse passeggiate, quindi i cani hanno avuto la possibilità di poter socializzare tra di loro, che è una cosa importantissima per quanto riguarda proprio l'essere cane, e poter iniziare dei percorsi rieducativi a livello anche comportamentale. E soprattutto c'è stata massima attenzione nell'inserimento nel box. La DUNO, tuttavia, che si è insediata questa mattina, ha intenzione di realizzare il canile sanitario, progetto che aveva genanimo di porre in essere nel 2018. Due unità resteranno in struttura per qualche giorno per garantire un passaggio graduale per la cura dei cani. L'associazione Cote Felici, già dal 2018, volevo realizzare un canile sanitario a Sumona. Poi mi hanno bloccata e io adesso, in questi quattro mesi, poi ci sarà la gara europea, ma l'intenzione mia è quella di fare un canile sanitario a Sumona. Infatti avevo comprato due moduli abitativi con dei box per mettere in quarantena i cani e volevo realizzarlo qui per non mandare i cani a Sant'Emarie. L'associazione avvisa tutta la cittadinanza di Sumona che il canile è sempre aperto in qualsiasi momento. Noi non abbiamo orari di entrate. La gente può venire quando vuole perché il canile sarà sempre pulito. Grazie. Grazie. Grazie.